Eccomi qua ragazzi, scusate il breve periodo di essenza ma avevo delle cose da fare riguardo un gioco online e siccome quando carico video non posso fare nessuna operazione online ho dovuto fare un po' di allenamento riguardo un gioco online abbiamo un torneo da affrontare ma tu un piccolo rompicapo per una piccola beh, per te chi la usa non sa che la sta usando cos'è? la bara è semplice giusto ma questa è la fasce oooohh no, vediamo un po' dove devo andare non so dove devo andare oooohh 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 ho saltato tre volte ok C'è uno strumento per ogni scopo Anche l'umile butto ha una funzione speciale Ma l'avevo già raccolto Sarebbe impossibile travasare il gin dalla botte alla bottiglia Mi ha fatto il salvataggio ma non mi ha tenuto gli oggetti Non capisco Calza proprio a pennello Mi dipingo come un giudice perfetto Ora fai funzionare la tua nuova zucca Ma io sarei la testa Wow Que figata Grazie a tutti Eeks No Ah no Oh Oh fuck Oh 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 Sì, siccome la mia testa è arrivata a destinazione, anch'io sono arrivata a destinazione, non fa una piega. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. è morto. È morto. Sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, non è vero. Si serve sto pulso Ma se volessi No, di qua sono arrivato Ah, si, ok Giusto, su, su Ok Ma se volessi Ma se volessi Ma se volessi BOOM! il cavalluccio, la tegliera. Spero sempre del potenziamento finale. E cosa fa il server? Non capisco cosa faccio questo. Ah, quello si è aperta la porta. Ah, quello si è aperta la porta a tempo. Ok, quindi faccio così. La vado di qua. E qua corro. E qua corro di nuovo! Maledetto! Ok, adesso. Fuck! E adesso come faccio? Ah, devo morire. Ah! Ma sono ripartito dall'inizio! Fuck! Vai! Cosa! Cosa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui ci deve essere per forza qualcosa di figo e di importante. Io odio il telefono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.